I Quanta Passion Group nascono nel 2023 per un progetto musicale sulle lingue romanze. Questo progetto mira a celebrare e promuovere le lingue romanze attraverso la musica. Le lingue romanze includono l'italiano, il francese, lo spagnolo, il portoghese, il rumeno e altre varietà regionali. Queste lingue hanno radici comuni nel latino e condividono molte caratteristiche linguistiche simili. In Romanze Latine, gli artisti utilizzano queste lingue come medium espressivi, contaminando stili musicali differenti come il pop, il folk, la bossa ed altri stili, cercando di esprimere musicalmente la ricchezza e la diversità delle lingue romanze. I componenti del gruppo sono Massimo Marsala alla voce e al piano, Marzio Gaudeni al basso, Renato Trevisan alla batteria, Ivan Bringas alla chitarra e Renato Bova al sax e al flauto traverso. Seguite la pagina YouTube e Facebook per tutte le novità sui concerti dei Quantapassion Group.